Il numero 29, il Campo, il numero 151, Mattia, Ferrario, il 76. Questo è il numero 26. La partenza è arrivata lunga. E' un'ottimale per Michael! L'intell principe si accoste a guardare il calcio, e' un'ottimale per l'arche. E' un'ottimale per la battaglia! E' un'ottimale per il calcio! E' un'ottimale per i nostri kg! Eccoci bene, due, due, due! E' un'ottimale per la battaglia! Número 48 Andra Grazie per la visione! 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 Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao a tutti!